Buonasera, 2 novembre 18.30 circa dell'anno 2024. Questo video di fatto mi è stato sollecitato dagli iscritti all'aggregazione di noleggiatori con conducente italiana di cui sono presidente. Hanno riportato un articolo del Sole 24 Ore odierno a firma Gianni Trovati, molto discutibile. Riporto solo alcuni passaggi. NCC, 6 miliardi di euro di tasse locali sparite, il titolo. I soldi sono spariti davvero. A calcolarli una consulenza tecnica di Arianna Montagni, tributarista, commissionata da quattro sindaci delle città di Milano, Roma, Napoli e Palermo, che lo stesso Gianni Trovati incontrerà e anzi intervisterà anche in data 23 novembre 2024 l'Assemblea annuale dell'Associazione Nazionale Comune Italiana. Quindi il collegamento io l'ho trovato in un modo talmente lineare che lo dico a tutti qui. In buona sostanza questi sindaci reclamano un mancato pagamento di tributi per competenza perché le società ascritte di fatto hanno la sede legale in paradisi fiscali italiani che sarebbero la Val d'Aosta e il Trentino Alto Agge, anziché averli laddove operano di fatto. La domanda che faccio è questa, ma non è che il giornalista si è confuso tra noleggio con conducente e noleggio senza conducente, apro e chiude la parente del tipo Società Avis, Europa Cars, Cilibeca, perché potrebbe anche essere che questi abbiano una sede legale in una regione e poi dopo in tutta Italia abbiano delle sedi locali. Ma noi cosa ci entriamo? Perché siamo tirati in ballo in questa situazione? Però non la capisco perché, direttore, il suo quotidiano è sempre stato attento, io ho letto Landolfi, ho letto Nuti, vostre firme. Il giornalista che leggo adesso, pur se evidentemente è uno che è quotato perché per avere incarichi poi di moderatore in certi ambiti, lo è. Però, butto lì anche delle ipotesi, potrebbe anche semplicemente essere che alcuni noleggiatori prendono le macchine in leasing, per cui le società abbiano sede poi in queste due regioni citate in particolare, potrebbe anche essere che le motorizzazioni di quelle due regioni siano più efficienti ed efficaci di altre, ma potrebbe essere tutto, però un minimo di verifiche sui dati, direttore, mi creda. Ho fatto la sommatoria di quelli che sarebbero i veicoli immatricolati, attenzione, stimo io che si parli di un anno, perché poi se mi dicono i veicoli immatricolati in 20 anni, allora dovete specificare che in 20 anni, perché la persona intelligente intuisce che quali sarebbero i veicoli immatricolati nel corso di un anno. Se sono 405 mila e le imprese di noleggio hanno autorizzazioni fino a 9 posti nell'ambito di 28 mila in Italia, ma lei ci crede o potrebbe arrivare a credere che un noleggiatore cambia un veicolo ogni 20 giorni? Direttore, la cosa è grave, però la figura di elusori fiscali è stata fatta fare a noi, società di noleggio con conducenti che normalmente pagano almeno il doppio o il triplo delle tasse rispetto al nostro concorrente che è una macchina bianca e che, come avete sempre spesso sottolineato in passato, non ci si spiega come mai non supera i 15 mila euro o 20 mila euro di reddito annuo. Allora direttore, le chiedo cortesemente, riprenda il giornalista e faccia fare un pezzo di chiarimento su quanto è stato riportato perché noi noleggiatori con conducenti e le nostre famiglie non abbiamo la disponibilità, non vogliamo, non ci teniamo a passare per i furbetti del quartierino. La ringrazio in anticipo e sono convinto che lei farà quanto le richiesto.